Ok, via libera, facciamo una bella figura. 5, 4, 3, 2, 1, via. Destra 1, in destra 2. E sinistra 4. Sinistra 3 sul crinale, in destra 4 in abballamento. In sinistra 3 lunga, apre. In destra 6. Destra 4. E sinistra 5 lunga, diventa 3. In destra 4. Sinistra 3 sul crinale, in destra 4 in abballamento. In sinistra 3 lunga, apre. In destra 6, cento. Sinistra 4. Destra 6 sul crinale, 60. Destra 4 lunga, e tornante aperto. Sinistra. In sinistra 4 sul crinale. E tornante destra. In sinistra 3 sul crinale. In destra 6. Destra 2. In sinistra 2. 20 dopo gli incroci. Sinistra 1. In destra 5 lunga, 100. Sinistra 6, 40. Destra 3 in abballamento. Sinistra 6 sul crinale. Destra 1 in abballamento. E sinistra 4, 60. Sinistra 5. Destra 5. Sinistra 5. Destra 6. E sinistra 4. Dosso. E destra 3. In sinistra 5. Destra 2 in non tagliare. Tornante aperto. Sinistra lungo, 60. Destra 6, 80. Sinistra 3. E destra 3 lunga. Apre, stringe. In sinistra 1. Non tagliare. Sinistra 5. E destra 3. In sinistra 5. E destra 1 in abballamento. E sinistra 3. E destra 3. Tornante sinistra. E destra 6. Sinistra 6. 80. Altra guarda. Rallenta per il commissario. E' andata bene. Ottima tappa. Complimenti. Diät. Il commissario. Non tagliare. Duarte.